Si informano che i caduti al Cosmodromo presidiano con cura il vecchio Osservatorio Celeste. Potrebbe esserci uno dei loro leader, oppure qualcosa di valore. L'oratore ha chiesto ai guardiani di indagare. Ok, l'Osservatorio Celeste è dall'altra parte delle stelle. Ed è circondato dai caduti. Bene, quando vuoi. Ok, l'Osservatorio Celeste. Prima del crollo, questo posto doveva essere incredibile. Migliaia di uomini a bordo delle navi colonia, in partenza per nuovi mondi. E ora, solo dei caduti che ne predano i resti. Su per la collina, l'edificio con il radar. È l'Osservatorio Celeste. Il d'Osservatorio Celeste. Grazie a tutti 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 Se vedi qualcosa che fluttua nell'aria, distruggila Grazie a tutti 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 Grazie a tutti